Con cittadini, amici, fratelli, paesani, compaesani italiani al di qua e al di là del mare, vicini e lontani. Chi vi parla è Antonio Latrippa. In questo momento cruciale per la vita del nostro paese bisogna separare il bene dal male, il vero dal falso. Se io vi dicessi che una volta eletto mi batterai per Roccasecca, nostro amato paese, fare costruire scuole, strade, acquedotti, case, case, voi mi credereste? E se io vi dicessi che questi signori sono persone onorevoli, degne di freggiarsi di questo appellativo parlamentare e che dovranno i vostri voti per i beni del paese, voi mi credereste? E allora sapete cosa vi dico? Che siete degli incerui, dei fessaggiotti, dei deficienti, degli inconscienti, perché io una volta eletto per Roccasecca non potrò fare un cacchio, dico cacchio, perché questi signori appena saranno eletti, poseranno i loro sporchi deletane sugli scanni della camera. E poi lasci, che lasci? E poi saranno soltanto i loro sporchi affari e faranno fessi, perché sono tapponi, tapponi!